Cari figli, sono qui per voi, per guidarvi e confortarvi nei momenti difficili della vita. Non temete. Non temete, perché io sono sempre con voi, per aiutarvi a superare ogni avversità. Siate sempre coraggiosi e fiduciosi. Confidate nel mio amore e nella mia protezione, perché veglio sempre su di voi con tenerezza e affetto. Continuate a pregare e ad affidarvi a me e io vi aiuterò ad affrontare ogni sfida, a trovare la pace, la serenità che cercate. Con affetto e gratitudine, la vostra mamma, la vostra Maria Santissima del Soccorso.